E adesso è il momento di Antonio Gallo che parla di lavoro nomade, quindi da normal worker a nomad worker. Buonasera, adesso arriviamo alla parte difficile, ci ho preso dai. Allora io sono Antonio, sono un freelancer come voi da cinque anni e mi diverto ad andare in giro qui e lì per lavorare. Sono un nomade worker, oggi vi parlo, cerco di darvi qualche consiglio su come cambiare vita, ma voi già avete fatto, e come diventare nomadi digitali. Nella vita faccio l'informatico, quindi sono avvantaggiato, perché la maggior parte dei lavori oggi c'è la possibilità di lavorare in remoto. E mi trovavo un talk e mi hanno chiesto come hai fatto a cambiare vita. Non manco a farla apposta, un mese dopo mi ritrovo alle Canarie e un paio di amici mi commentano, ma come fai, come non fai. Allora è nata l'idea di raccontarvi la mia storia e di spiegarvi un po' come ho fatto. E parte tutto dal 2013, slide nera, perché il 2013 è il mio anno nero. 2013 perdo il lavoro come dipendente e mi trovo in una situazione un po' particolare. C'è un tetto di stipendi consolidato ormai nell'informatica, per cui non si va oltre una certa cifra. E mi ero stufato di essere sottopagato, di lavorare per altre persone, di non avere nessuna gratifica. E quindi li ho mandati tutti a quel paese, ho fatto un biglietto per andare in giro per il mondo e ho sfruttato i sei mesi di disoccupazione per inventarmi una mia professione. E cos'è un nomade digitale? Voi state pensando a questo, vero? È vero che ho pensato a questo? E mi dispiace deludervi, quello è un nomade digitale. Quindi toglietevi lo stereotipo che è un nomade digitale e uno che lavora in spiaggia, perché in spiaggia non ci lavorate, vi portate cocktail e vi godete la giornata. Invece poi la cruda realtà è che siete in momenti di lavoro molto intenso, H24, soprattutto nei tempi morti, magari nei viaggi, in aeroporto, mentre aspettate una coincidenza, per poi divertirvi il giorno dopo, la mattina, col fuso orario diverso. Per esempio se andate in Giappone, voi uscite dalle 8 alle 16, perché in Italia tutti dormono, e iniziate a lavorare dalle 16 alle 22. Quindi anche se non avete le ferie, ve ne andate in Giappone e comunque vi godete il Giappone. Soprattutto anche in Giappone avete degli scatoletti che vi fanno andare a 400 megabit al secondo, a 70 euro al mese, quindi è meglio andare lì che stare in Italia con la chiavetta dell'operatore che sappiamo tutti com'è. Quindi, Identikit Nomade Digitale, quindi è una persona come me che sfrutta la tecnologia per guadagnarsi da vivere, con la massima libertà di movimento e di disporre del proprio tempo. Questi sono gli aspetti fondamentali. Se voi riuscite a remotizzare la vostra attività, siete a cavallo. Perché poi le altre cose ve le hanno già spiegate oggi. Come si fa lo zaino, come si delega, io non sono capace, quindi ho apprezzato molti talk. Gli altri due step fondamentali sono quelli di riuscire a creare una fonte di reddito online. Quindi per me magari è facile perché faccio consulenza, software, tutto online, soltanto quando faccio delle lezioni, dei corsi in aula, torno in Italia e vado in azienda. Poi magari c'è una persona che ho conosciuto oggi, farò psicologo, magari è un po' più difficile farlo psicologo da remoto. Qualche volta bisogna farsi vedere, immagino. Cresciata? Ok. Quindi serve una fonte di reddito, poi decidete dove volete andare. Potete anche restare a casa. Io per esempio spesso sono a casa e mi definisco nomade digitale sedentario. Ok. Poi i feri del mestiere, insomma, poi li vediamo, sono il classico PC e vari accessori. vi serve di fare un po' di finanza personale e gestione del tempo e soprattutto per chi è nel mondo IT ci sono molte possibilità in più se hai l'inglese. Ci sono però anche degli aspetti negativi. E io un paio ci sono capitato già. Non è per tutti. La maggior parte del tempo si lavora. Non è vero che non si lavora. Se siete magari un imprenditore riuscite a delegare, avete più tempo, ma come freelance lo sappiamo, è quello che è. E a volte c'è qualche problemino a trovare la connessione internet, chiaramente, che è un po' un dramma, però soprattutto in Italia. All'estero questo problema l'ho trovato di meno. Dovreste lavorare nei co-working, quindi ci sono pro e contro, non è per tutti. E soprattutto potreste soffrire di solitudine, ecco. Ecco, diciamo, se potete portare la compagna o la moglie, forse, o anche gli animali. Molti lo fanno, poi vi farò vedere. È meglio, perché è uno dei... Lavorare da remoto a volte si sente il distacco, un po' la voglia di fare quattro chiacchiere con qualcuno. Però se avete una vita sociale migliore della mia, questo problema non l'avete. E poi, diciamo, c'è anche il problema del fuso orario, che se siete magari in alcune parti del mondo e i clienti dall'altra, potrebbe esserci qualche problema. Io, per esempio, ho molta difficoltà se devo prendere un cliente a Los Angeles a dover lavorare la notte dalle tre alle quattro, insomma, di notte. Va bene. E come generare una fonte di reddito online? Beh, ci sono varie possibilità. Se siete dipendenti, il mio consiglio è quello di chiedere al boss di lavorare da remoto. Non ditegli che andate in Australia. Ditegli che siete a casa e poi pian piano vi staccate. Prima vi fate dare un paio di giorni, poi una settimana e poi un mese. Se il vostro boss non ne vuole sapere di queste cose, allora vi toccherà trovarvi un'azienda che vi assume e vi fa lavorare da remoto. E nel mondo americano, anglosassne, questo ormai è quasi una pratica. Soprattutto nel campo IT, se andate a vedere questi siti che vi do io, troverete migliaia di posizioni da remoto. Soprattutto molti lavori anche ben pagati, io ci sto pensando un attimino perché sono veramente bei stipendi, vi consentono di lavorare da qualunque parte. Mi sembra soltanto una volta al mese vi dovete far vedere per qualche meeting, così giusto per fare un po' di team. Nel caso nostro, che siamo freelance, potete buttare via i vecchi clienti che vi vogliono in ufficio, perché se non vi vedono lavorare non vi credono che fate il lavoro, e cercarne di nuovi. C'è, sono varie liste con migliaia di siti dove potete trovare lavori da remoto, ci sono anche dei marketplace per il lavoro, io questi però non li utilizzo, dei clienti consolidati, però ho molte persone che si sono trovate bene con Upwork, poi c'è chi si trova bene e chi si trova male. Se siete un imprenditore, infine, è tutto molto più semplice, perché è già un'azienda che funziona, dovete soltanto imparare a delegare, quindi voi delegate, liberate il tempo libero, e controllate tutto da remoto ovunque vi trovate. E questo è un caso di una persona che ho conosciuto in giro per il mondo, si chiama Fabio, fa il tecnico informatico anche lui, lui lavora esclusivamente con Upwork, cosa che io non sarei capace a fare, ma lui ci riesce benissimo, prende il suo camper, il suo cane, e va in giro. Adesso sta a Barcellona, mi sembra, potrò andare non so dove. Comunque ci incontriamo il mese prossimo alle Canarie, evidentemente lui riuscirà a caricare il camper su un traghetto, e ci vedremo lì per un piccolo meeting. Quest'altro ragazzo qui sempre l'ho conosciuto alle Canarie, ha iniziato anche lui con un PC, se n'è andato alla Spalmas, da questo PC ha creato un'azienda, quindi adesso ha una sede con fiscalità canaria, e un'altra sede con fiscalità italiana, e ha vari collaboratori sparsi qua per il mondo, e fa praticamente una web agency. Però già, l'ho iniziato così, ha voluto diventare un nomad digitale, e quando lo vado a trovare, lo trovo quel racchettone che gioca a Paddle, invece di lavorare. Beato lui perché è riuscito a delegare, io ancora no. Ok, fatto questo, se riuscite a crearvi una posizione da remoto con i vostri clienti, allora non vi resta che iniziare a pensare a dove andare. Se volete incontrare altri nomadi digitali, ci sono tre località in cui sono molti italiani, quindi se siete un po' a disagio con l'inglese, potete comunque andare alle Canarie, in particolare a Las Palmas, a Thailandia, a Chiang Mai, e in Indonesia a Bali, quindi ne trovate a Bizzeffi. Sono dei co-working con migliaia di persone dentro, dove potete conoscere altre persone che condividono questo stile di vita. Io alle Canarie vado spesso, una volta almeno ogni due anni ci vado, mentre le altre destinazioni ce le ho in calendario. Poi se cercate in queste località o in altre di vostro gradimento, un co-working, dove siete sicuri che andate lì, trovate il tavolino, l'internet, il coffee break, insomma tutto quello che vi serve, la stampante, il fax, il recapito, tutto quello che possiede per lavorare, ci sono diversi portali, dove potete andare lì, inserite la destinazione, e trovate sia indicazioni sui prezzi di quella città, di tutti i servizi, sia anche i migliori co-working. Per lo zanetto, già ne ho parlato prima, quindi le altre cose che assolutamente vi servono, secondo me, soprattutto quando andate fuori dall'Unione Europea, è una carta di credito aggiuntiva, perché potrebbe capitare che i POS, quindi i Bancomat, in un altro Stato, non accettino la vostra carta per qualche motivo. se riuscite a separare i circuiti Mastercard e Visa, non vi dico di aprire un American Express, perché è costosa, però se riuscite ad avere Mastercard e Visa, probabilmente è il top. Poi ci sono delle carte di credito, apposta per i nomadi digitali, che bene o male funzionano in tutto il mondo, in vari gruppi se ne parla, e ci sono alcuni prodotti consigliati, però qui non faccio pubblicità gratis a queste aziende. E il punto fondamentale è l'assicurazione medica, perché fuori dall'Unione Europea, se vi fate male, è un problema al portafoglio, perché pagate voi tutte le spese mediche. Quindi io quando vado in Giappone, tiro fuori 100 euro per stare tranquillo. Quindi se mi succede qualcosa in Giappone, non devo pagare niente, si spera a fare tutto l'assicurazione. Quindi stessa cosa anche per gli Stati Uniti. Ok, poi un punto fondamentale, vabbè ma questo già lo sapete, siete di freelancer, questa diciamo è una slide per dipendenti, è di riuscire a gestire la propria finanza personale e il proprio tempo. Quindi di riuscire a imparare tutta una serie di tecniche per recuperare tempo, quindi varie tecniche, pomodoro, kanban, agile, scrum, eccetera, ce ne sono una marea. E la finanza personale, vabbè lo sapete meglio di me, la storia degli acconti, mica acconti, che molti primo anno che aprono si fanno del male, perché non mettono i soldi da parte per pagare le tasse l'anno dopo. Queste sono cose che qui penso che le conoscete tutti. E infine la lingua inglese è fondamentale, soprattutto nell'IT, perché senza la lingua inglese in questo momento, penso che in Italia è difficile riuscire a trovare dei lavori 100% da remoto. Quindi la possibilità di usare l'inglese vi apre le porte a tutto quello che è il mercato internazionale che in questo momento è enorme. E poi come vi ho detto prima, in America e in UK o comunque in Nord Europa ormai il lavoro remoto lo danno quasi per scontato, almeno nelle posizioni di un IT di un certo tipo. Ok, quindi per quanto riguarda la mia esperienza, vi ho già detto che io mi ero preso sei mesi di disoccupazione per cercare di pensare a cosa fare e mettendo in pratica tutto quello di cui vi ho parlato velocemente adesso per non sottrarre tempo ad altri e sono uscito in un anno e mezzo già a non dare regime con la mia attività, a remotizzarmi il 100% e poi ho iniziato a viaggiare. Prima ho iniziato a viaggiare in Europa, ho prediletto il sud della Spagna in maniera tale che tra ottobre e febbraio riuscissi ad essere in località con un clima più mite e comunque con una serie di servizi migliori che comunque in Spagna devo dire che la connessione va molto meglio rispetto all'Italia. Poi sono dei co-working molto belli, per esempio a Valenza ci vado spesso perché mi piace soprattutto un particolare co-working, mi trovo bene, incontro gente italiana e non di tutto il mondo e poi la sera si stacchia le sedie per fare un aperitivo in centro, poi i prezzi sono sempre un 20% in meno rispetto all'Italia e quindi si sta bene. Poi se si riesce alle Canarie, però gennaio e febbraio sono un po' cari con gli affitti, se riuscite a prenotare qualche affitto anche alle Canarie si risparmia molto come costo della vita e soprattutto avete giornate di sole tra che non sono stati cinque giorni l'anno. Io sono un po' meteopatico se c'è brutto tempo non riesco a lavorare bene, invece se c'è sole lavoro alla grande, infatti poi finisce che non esco. Negli ultimi tre anni invece mi sono dedicato anche al Giappone, sono andato tre volte in Giappone, chiaramente viaggi molto lunghi, quindi almeno un mese perché più state e più ammortizzate i costi del biglietto. In Giappone come dicevo è una bella destinazione perché se vi organizzate pagate molto poco sia il cibo che l'alloggio e poi c'è la possibilità di lavorare ovunque perché vi danno una scatolina all'aeroporto con 70-100 euro, avete 400 megabits non più di banda ovunque vi trovate, ve ne andate a parco e lavorate e oppure vi fate un altro giro e poi la sera tornate e rispondite al telefono a qualche cliente. Ecco qui, io vi ho lasciato un po' di risorse utili, queste slide poi magari ve le posto nel gruppo, se avete qualche domanda faccio un po' di spam come vi potete contattare oppure vi aspetto qui fuori per fare quattro chiacchiere. Scusate se sono andato di corsa e grazie mille. Grazie mille.